Bambini! Bambini! Un attimo di attenzione, per favore! Perché, dopo aver accolto Rudy adesso, non gli presentiamo le regole della classe? Sì! Rudy, tu conosci qualche regola di buon comportamento? Sì, maestra. Ne conosco una che mi ha detto nasone. Quale? Nasone mi ha detto che non si possono mettere le dita nel naso. Vero, vero, giusto. Però ora ne aggiungiamo altre. Ripassiamo le regole che sicuramente avete già imparato alla scuola dell'infanzia. Numero 1. Saluto educatamente quando entro in classe e quando vado via. Numero 2. Non si parla tutti insieme. Alzo la mano per parlare e aspetto il mio turno. Numero 3. Ascolto in silenzio le lezioni. Numero 4. Mi metto in fila senza spingere. Numero 5. Mantengo l'aula sempre in ordine. E cerco di tenere in ordine anche il mio materiale. Numero 6. Sorrido aiuto chi ha bisogno. Bambini, per stare bene insieme, quali altre regole possiamo aggiungere? Le regole più belle si faranno all'asilo e a comportarvi bene io l'ho imparato lì. Imparo che si deve dividere le cose non far male alla gente giocare correttamente se qualcuno faccio male io chiedo sempre scusa e ciò che non è mio io non lo porto via. Dunno